Un'altra persona che di viaggi ne sa davvero qualcosa e ne parla anche spesso nelle sue canzoni è niente proprio di meno che Winnie Pejote Wow Ciao, live A te? A me Fai quello che vuoi Mi faccio un viaggio, io ho un amico a cui chiedere e fare delle domande Aspetta che così c'è un doppio mento come Renzi Stai schnazzare Non c'è nulla No però sei pazzo, se penso a viaggio io penso a te Se ti dico viaggio, tu cosa prego? Come si tiene sta roba per non sembrare brutti? Allora siccome prima di fare finta che fosse spontanea questa cosa ne abbiamo parlato Sì abbiamo fatto un bel viaggio per dare a conoscere Montanini nelle Marche Faccio Montanini, ciao Giorgio Tutti i regionali perché lui liberati non aveva ancora fatto gli soldi con la musica E è stato un gran bel viaggio Un'altra cosa che mi viene in mente parlando di questa cosa Che io comunque parlo ancora ai regionali perché sono proletario dentro Bravissimo, resta umile Lo sposta poveri prendo Bravissimo Ma a muri poveri Ma il... Dove siamo? Tutte le volte che viaggio con loro Stirocandovi in passaggi nel furgone dei tour Voi impulate il svapo al bassista Io direi che il viaggio è concluso L'armata capolinea è stato bello ragazzi Grazie.